Salve ragazzi, qualche tempo fa vi abbiamo mostrato alcuni programmi che simulavano il menu start dei vecchi sistemi Windows sul nuovo Windows 8. Quello che invece vi faremo vedere oggi è una guida su come ripristinare il menu start nativo di Windows 7, quindi nessuna copia ma esattamente l'originale menu start di Windows 7. Per fare questo quindi dobbiamo collegarci al topic del forum My Digital Life, linkato all'interno dell'articolo che trovate nella descrizione del video e cliccare quindi sul link per scaricare questo programma che ci ripristinerà l'interfaccia di Windows 7. Quindi salviamo il file, quindi estraiamo il nostro archivio, mettiamo sul desktop ed avviamo l'eseguibile. Confermiamo. Per prima cosa quindi scegliamo se ripristinare lo start menu di Windows 7 per tutti gli utenti o se per soltanto l'utente è selezionato. Nel nostro caso lasciamo tutti gli utenti, quindi clicchiamo su install. Ok. Adesso dobbiamo inserire il DVD di Windows 7 nel nostro computer e quindi clicchiamo su find automatically. Perfetto, è stato trovato. e quindi a questo punto dobbiamo scegliere di usare l'explorer Windows 7. Ovviamente non sarà più possibile utilizzare l'interfaccia, la nuova interfaccia di Windows 8, l'interfaccia metro e quindi tutte le applicazioni che utilizzano questa nuova interfaccia. Quindi clicchiamo su Use Windows 7 Explorer e ci viene detto che per completare bisogna, verremo appunto sloggati dall'utente. Quindi confermiamo. Rieffettuiamo l'accesso. Come potete vedere quindi è ricomparso il menu start di Windows 7 nativo e tutte le finestre però avranno comunque l'interfaccia di Windows 8. Il prezzo che bisogna però pagare per tornare con lo menu start di Windows 7 è che comunque non sarà più possibile utilizzare l'interfaccia di Windows 8 e tutte le relative applicazioni. Non potranno essere utilizzati i test di scelta rapida come Windows X e Windows Stamp e per raggiungere un nuovo utente bisognerà aprire con Windows R la schermata di run e avviare netplwiz.exe e da qui quindi possiamo aggiungere nuovi account e così via. Per tutti gli altri dettagli in ogni caso potete consultare l'articolo presente nella descrizione del video. Se doveste decidere di ritornare come era prima è semplicissimo. Vi basterà andare nel pannello di controllo e disinstallare il programma. Confermiamo. Ok a questo punto non ci resta che disconnettere l'account e rieffettuare l'accesso e potremo pure cancellare la cartella Explorer 7 che troviamo in C.Windows. Quindi usciamo. E come potete vedere è tornata l'interfaccia di Windows 8 ed è scomparso il menu start. È tutto tornato come prima. E con questo la nostra video guida è terminata. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al nostro canale e continuate a seguirci su www.winter-tech.eu Alla prossima!